San Bartolo sempre più collegato, fruibile, ecosostenibile e gratuito. Il brand Riviera del San Bartolo si struttura ulteriormente lanciando l'inedito progetto delle navette che a partire da giovedì 6 luglio e fino al 27 agosto collegheranno gratuitamente tutti i principali luoghi di interesse della panoramica, compresi fra Pesaro e Gabiccemare, passando per gradare Tavuglia. Un progetto presentato oggi nel municipio di Pesaro con tutti gli attori coinvolti, compresa Adriabus che predisporrà navette da giovedì alla domenica e che nel clu di agosto saranno invece in viaggio tutti i giorni. Questo intervento darà la possibilità prima nel mese di luglio, nei fini settimane dal giovedì alla domenica e poi nel mese di agosto tutti i giorni di portare i turisti sul San Bartolo. Vedremo di organizzarli anche dei pacchetti per visitare un po' la parte ambientale del San Bartolo e un po' anche la storia del San Bartolo perché Focara è noto anche perché citato sulla Divina Commedia ma ci sono altri borghi importanti come Santa Marina e Castel di Mezza che noi cercheremo di valorizzare. L'obiettivo è quello di farlo promuovere molto dagli operatori economici affinché veramente sia un bus turistico, ce n'è un bus di linea ma è un bus turistico in cui il turista magari in una giornata vuole farsi il parco, vuole andare a gradare a Tavuglia e poi tornare indietro con calma nell'arco di una giornata riesce a fare tutto veramente in comodità e poi l'altro importante risultato su cui abbiamo lavorato è di offrirlo gratuitamente, quindi questo sicuramente avrà un impatto importante. È anche un'occasione non solo per toccare punti di interesse ma per fare in modo che queste due linee sostanzialmente diventino non solo un mezzo di trasporto, importante per i turisti, importante anche per i cittadini ma siano già parte dell'esperienza del viaggio, un po' come l'autobus scoperto, con questi vari scoperti nel sito e nel territorio. Due le linee previste con collegamenti a partire dalle 9 di mattina. Il primo parte da Pesero fra Piazzale Matteotti e Stazione Ferroviaria per raggiungere Gabicce Mare attraversando tutti i luoghi del parco San Bartolo. L'altra linea parte da Colombarone per raggiungere Tavuglia passando per Gradara e Fiorenzuola di Focara. Entrambe le navette si intersecheranno nella zona camping di Castel di Mezzo che fungerà da parcheggio scambiatore. Noi era già qualche anno che stavamo chiedendo questo servizio proprio per incentivare l'utilizzo e la scoperta del parco San Bartolo, quindi va nella direzione giusta. Promuove la mobilità sostenibile, noi abbiamo anche un progetto in partenza per quest'estate che si chiama Pesero in treno, quindi ci teniamo molto a promuovere la mobilità sostenibile e il fatto di muoversi in maniera con i mezzi pubblici. È giusto che Tavuglia sia collegata sia col parco, con Gabicce e con Pesero per far sì che i turisti possano arrivare sia da queste località, magari dopo una breve sosta a Gradara, arrivare anche a Tavuglia dove stiamo valorizzando il territorio. Finalmente è un servizio che mette in collegamento un territorio stupendo e ci auguriamo che questo sia solo il primo passo e che dagli anni in poi sia sempre garantito e possa essere anche migliorato. Primo progetto fatto in corsa e quindi senza un grande storico precedente, però credo che da settembre dovremo iniziare a lavorare su un progetto più strutturato per l'anno prossimo, coinvolgendo sia le attività turistiche, i residenti, le aziende agricole per accontentare un po' tutti.